Ok, benvenuti, ora vediamo come organizzare un progetto che permette di usare Google Cardboard con Unity quindi la prima cosa da fare è quella di cercare quello che sarà il nostro plugin per Unity di Google quindi cerchiamo GVR, perché si chiama così, cerchiamo GVR Unity su Google e abbiamo come prima cosa Google VR SDK per Unity, questo è fondamentale per poter lavorare con Google Cardboard ora in questo momento questo repository è considerato obsoleto nel senso che dovrebbe uscire nel giro di qualche mese la nuova versione però visto che è in questo stato, ormai da ottobre-novembre, quindi diversi mesi, cominciamo a imparare questo quindi scarichiamo l'ultima versione che è stata fatta otto mesi fa e per scaricarla andiamo nelle release e nelle release abbiamo la V1.201 che è del 17 luglio 2019 e a questo punto ci scarichiamo lo Unity Package lo Unity Package è un file 33 MB, quindi ce lo dobbiamo scaricare diventa il nostro, eccolo qua quindi 33 MB che sono da scaricare e dopodiché andiamo a inserirlo in un progetto Unity ora noi usiamo per il momento ancora la versione di Unity vecchietta, quindi quella del 2.12.1 F1 che è quella che usiamo per Altspace VR quindi andiamo intanto in Unity Hub se la troviamo Unity Hub, eccolo qua voi ci avrete probabilmente un link e qui ci costruiamo un nuovo progetto sul 2019 2.12.f1 questo progetto lo chiamiamo sempre Cardboard anzi chiamolo GVR Unity così capiamo che stiamo sperimentando quello creiamo questo progetto in questo progetto per semplicità ci metteremo il solito cubo col piano e cercheremo di farlo in modo tale di vedere se riusciamo ad avere due tipi di interazione l'interazione che noi interessa è il movimento e un'elementare interazione con il cubo o comunque con un altro oggetto ok allora adesso Unity parte, partirà a vuoto e noi ci preoccuperemo poi di aggiungere questo Unity Package che abbiamo visto che abbiamo inserito ok, siamo arrivati quindi andiamo sugli Assets e qui dobbiamo fare Import Package Custom Package e qui dobbiamo prenderci il Google VR4Unity 1.201 facciamo Apri quindi viene preso quel package questo tra l'altro bisogna farlo per ogni progetto che noi facciamo prendiamo tutto quello che c'è lì dentro facciamo l'import e quando lui avrà deciso, quindi avrà compilato tutte le nostre risorse e ce le avrà messe nel nostro progetto a quel punto noi possiamo poi cominciare a operare con i nostri oggetti ora, non appena arriverà vi farò solo vedere brevemente quali sono le cose fondamentali che andremo a usare e così chiudiamo questo video in realtà avremo ecco, adesso credo che abbia finito quello che è successo è che lui ha creato sotto gli Assets quindi mettiamolo magari in formato grosso così lo vedete negli Assets ci sono le scene e c'è Google VR quindi Google VR dentro Google VR ci sono un sacco di cartelle e qui dentro ci sono un sacco di cosine quello che ci interessano a noi sono i cosiddetti GVR quindi GVR forse conviene vederli piccoletti e quindi questi GVR adesso man mano li andiamo a prendere e saranno 3-4 di questi oggetti di questi prefabbricati che ci interesseranno quindi al momento finiamo questo video facendo un save quindi così abbiamo salvato il nostro oggetto e poi usciamo e poi rientreremo e poi ci caricheremo qualche cosa di interessante è tutto